Compensazioni Eni, Porto, Agricoltura sono alcuni dei punti di battuti questa mattina nel corso della conferenza stampa promossa a Gela da Forza Italia presente anche il deputato regionale Pino Federico e il consigliere comunale Salvatore Scerra Abbiamo dato due priorità e sono il Porto e l'agricoltura il Porto speriamo che è martedì e quindi ci arriva questa benedetta firma da parte della Presidenza della Regione dopodiché potremmo dare un cambio di marcia all'economia di questa città dopo la chiusura dello stabilimento ovviamente Bisogna dunque dialogare con l'amministrazione comunale è l'obiettivo di Forza Italia Noi speriamo di avere un confondo con l'amministrazione comunale che da un anno sicuramente non ci rende partecipe di tutto tranne sui temi importanti che sono stati la chiusura quindi la vertenza Gela e il Porto di Gela sul Porto di Gela io faccio parte pure del gruppo di lavoro ma speriamo che questa amministrazione la smetta di improvvisare tutto e ci dà un programma e lo presenta sia in consiglio comunale ma soprattutto alla città che ne ha molto bisogno Disposti al dialogo dunque qualora sarete convocati? Noi siamo disposti al dialogo per il bene della città ma vorremmo capire come loro si vogliono muovere e soprattutto in che direzione vogliono andare Il consigliere comunale crocifisso napolitano Noi vogliamo valorizzare anche con questi 32 milioni di euro delle eroites anche le periferie abbiamo suggerito anche di fare dei musei da realizzare per esempio cantina sociale perché abbiamo avuto delle proposte anche dalla nostra parrocchia di fare un museo per quanto riguarda i presepi di Natale che Padre Renzo ne ha 500 quindi valorizzare questo tipo di programma e poi abbiamo detto di aiutare anche tanti gli anziani che sono lasciati in abbondono completamente creando dei centri aggrigativi o dei campetti di bocce sono cose poche e possiamo realizzare tanto Grazie Grazie Grazie